So che è sera, so che è tardi, ma vi devo assolutamente aggiornare sul portafoglio perché sta facendo un'evoluzione incredibile in queste ultime ore in quanto la Fed, dato che oggi c'era una riunione importante sui tassi di interesse, sono rimasti invariati e questo ha giovato positivamente al mondo cripto e ora subito al computer e vediamo i risultati. Nel video di ieri, se l'hai visto e se non l'hai visto te la sei giocata, ho fatto vedere tutte le cripto su cui ho investito e che avevo detto che sarebbero salite e infatti, ora vediamo. Ieri stavamo a 40.000, si può vedere nel video precedente a questo di ieri, oggi siamo a 41.400 USD, quindi abbiamo già fatto da ieri a oggi 1.400 dollari. Anche se in realtà poi stanotte alle 2 siamo scesi ad un crollo abbastanza importante, fino a 35.000 euro addirittura, per poi risalire in questo momento a 36.500, quindi veramente una roba pazzesca. Ora andiamo comunque a vedere sul mio conto spot come la mia diversificazione sta evolvendo, quante cripto sono in positivo e vediamo anche magari di chiudere qualcosa, infatti qua si vede anche il profitto fatto solamente oggi, quindi 2.500 dollari, e vediamo un po' se c'è qualcosa da poter chiudere. Qui abbiamo Niar, Arb, appunto come già facevo vedere, Tao, Tao ha un ottimo profitto di 199 euro, in questo caso lo puoi ben vedere qui. Poi abbiamo anche in positivo NMR con 153, 96, 302 per gala. Signore e signori, 302 per gala, 60, 94, insomma tutte cripto in profitto. FET, intelligenza artificiale, 185. In ogni episodio di questa mia challenge da 10.000 a 100.000 dollari, come vedete, le cripto su cui punto maggiormente sono quelle di intelligenza artificiale e infatti sono quelle che hanno anche più profitto. Ti ricordo che puoi copiare questi trade in maniera automatica dal link sotto in descrizione con il copy trading. Attualmente per adesso ho venduto Matic, vabbè ora è già scomparsa, anche Tao venduta parzialmente al 50% della posizione, quindi lascio un 50% della posizione ancora macinata perché potrebbe salire ancora, quindi per evitare di chiuderla tutta e pentirsi perché continua a salire, chiudo parzialmente il 50% della posizione e se continuo a salire chiuderò ancora un altro 50%, ancora 50% e continuo a liquidare il 50% finché poi non liquido tutto a un certo punto. Chi usa anche The Graph, anche questa qui, intelligenza artificiale. Come vedete in diretta sto incassando, sto mettendo fieno in cascina. Incassata totalmente Enz, in questo caso l'ho chiusa tutta. Enz l'ho chiusa tutta perché non è una cripto che mi piace e di conseguenza poi avevo anche poco, solamente 1000 dollari dentro, ero già a 1060, qualcosa del genere, quindi incasso e via, il 6% di profit è incassata. Anche Filecoin qua chiusa. Su Filecoin non ho fatto nessun profit, l'ho chiusa in pari, ma non l'ho chiusa totalmente, avevo dentro 2500 dollari, ma erano troppi per questa cripto, quindi l'ho svuotata di 1500 dollari, lasciando così solamente 1000 dollari su questa cripto. E qualora dovesse scendere, in quanto comunque il mio prezzo di entrata è molto buono, continuerò a mediare il prezzo per abbassarlo sempre di più e poi quando e se il pattern che ho identificato dovesse rompere verso l'altro, allora sì, andrò a chiuderla in positivo. Però appunto nel frattempo sto svuotando e accumulando USDT, così da avere appunto fondi liberi per andare a mediare i prezzi qualora appunto andassero giù. Ora però vediamo se il portafoglio è per caso aumentato, riflessiamo la pagina così appunto aggiorna anche le varie chiusure, vediamo cosa è successo. Allora, vediamo un po', si è aumentato o diminuito il portafoglio in questi pochi minuti, ed è aumentato, è aumentato perché eravamo a 41.400 e qualcosa, quindi qualcos'altro è andato in positivo, molto molto bene, o positivo comunque è aumentato. Infatti come vedete quanto Filecoin che vi accennavo, 922 euro che sono appunto 1000 dollari e poi abbiamo FET che ha un buon profit, siamo a 180 euro di profit, ma appunto ho solamente 500, in questo caso non vado a liquidare la posizione al 50% perché comunque ho poco capitale e la lascio qua a macinare, qualora dovesse scendere andrò a mediare il prezzo eccetera. su BIM 97, idem, lascio qua perché ho 800, 900 anche qua, queste qua le lasciamo così. Ora magari andrò a svuotare ancora un po' di queste posizioni che sono molto più grosse e non le voglio, tipo in questo caso su OP Optimism ho 3000, su Injective ho 4000, queste ora andrò a svuotarle, come USD comunque aggiornando siamo già a 16.000 liberi, liberi, quindi in realtà ho già abbastanza capitale libero e forse in realtà non vado neanche a svuotare queste perché tanto avendo così tanto capitale libero non ho bisogno di andarla a svuotare. E comunque vabbè, in realtà questo, poi abbiamo anche ASTO, queste qua sono un po' cripto, un po' del cacchio alla fine, qua bombre, 7 dollari, vabbè poca roba, il nulla. Qua vediamo anche i risultati di tutte le persone che sono in copy trading che hanno copiato le mie operazioni totalmente in automatico. Questo ragazzo ormai, vedevamo nel video di ieri che era a 1000, ora già a 1274, questo qui siamo a 398, 321, 207, 190, 160, 157, tutti i guadagni automatici, trovi il link sotto in descrizione per avviare il copy trading. Copierai una buona parte delle mie operazioni totalmente in maniera automatica, quindi quello che io guadagno lo guadagni pure tu, quello che io perdo ovviamente lo perdo pure tu, però è un modo per avere dei potenziali guadagni totalmente passivi senza dover fare niente, non devi essere esperto di trading, non devi essere esperto di nulla, non devi conoscere zero, la tua conoscenza può essere totalmente zero. Comunque, link in descrizione per il copy trading, scrivimi qui su Instagram se vuoi avere maggiori informazioni, seguimi, mi raccomando, iscriviti al canale, metti un bel like, commenta qui quello che vuoi, e al prossimo aggiornamento ragazzi, con la mia challenge da 10.000 euro a 100.000 euro entro la fine dell'anno, siamo già da 10.000, siamo passati già a 41.000 e, manco mi ricordo, comunque abbiamo già fatto il 4x in praticamente 20 giorni, quindi tanta tanta roba, vediamo un po' cosa succederà, ovviamente tutto può scendere e quindi andare a perdere gran parte di questi profitti, ma anche se perdessi 10.000 sarei ampiamente già in vantaggio, quindi sono ampiamente tranquillo per adesso, continuerò a investire sull'intelligenza artificiale perché come si può ben vedere è un settore in totale evoluzione e continuerà ad evolversi perché, come dico sempre, fa parte ormai del quotidiano della vita di tutti noi, quindi vediamo un po', io preferisco investire i miei soldi in queste cose dove potenzialmente posso trarre un guadagno anziché comprarmi la mascherina quella lì della Apple lì che ti fa cose, c'è gente che spende i soldi, c'è gente che li investe, c'è gente che li butta via perché poi quei soldi là non ti torneranno mai indietro, mentre invece questi soldi te li puoi ritirati e li puoi rimettere in tasca e vabbè, chiaro, qua c'è il rischio di poter perdere, infatti quello che dico non sono mai consigli finanziari, ma essenzialmente è quello che io personalmente faccio e vabbè, detto ciò, ci vediamo al prossimo video, ciao!